Popolo della sfida, buongiorno, grazie per l'attenzione. Allora, lunedì 12 non ho fatto il video perché sono rimasto flat, non mi piaceva il mercato che c'era ieri sui strumenti finanziari che seguo, quindi depenno i 177 giorni al compimento della missione di Fabri Forex. Depenno anche i 176 giorni perché adesso che sono le 5 e mezza praticamente finisce qui la mia giornata intraday, siamo al top, sono al top, contento, voglio provare a premiare ancora meglio le operazioni che statisticamente sarebbero perché poi il futuro non lo conosce nessuno, sono quelle che sulla carta possono essere delle belle potenzialità, quindi star dentro, chiaramente soffro un po' perché sto entrando pesante, ve l'ho detto, certamente per correttezza non faccio vedere che gli ingressi e le uscite, i volumi sono personali e soggettivi di ognuno di noi, però sto spingendo, stamattina infatti denotavo un po' di, trasmettevo un po' di, si denotava in me, un po' di tensione e dopo un po' qualcuno che insomma capisce bene la psicologia e mi conosce, Fabri stai calmo un attimo, nel senso che siamo in trading range su euro yen, sei long, sei posizionato tecnicamente correttamente, il modello è quello, siamo in trading range normale che faccia su e giù, calma e sangue freddo, effettivamente poi è andata come doveva andare, però ripeto, l'attenzione c'è perché tradi live in tempo reale, sto spingendo e ribadisco, poi qualcuno può anche non essere d'accordo, ci mancherebbe altro, ma se tradate live e insomma vi impegnate a farlo con anche dei capitali interessanti eccetera eccetera, lo fate a voce alti, non so quanti lo facciano veramente, ma non è questo un complimento, un'autosviolinata che io mi stia facendo, è quello che penso, quindi è da folli, perché veramente ti metti oltre modo a nudo, ma solo facendo così, solo facendo le cose che fanno i folli, raggiungi degli obiettivi che normalmente non si riescono a raggiungere, quindi la mia sfida continua, cerco di dispensare ogni giorno dei consigli a me stesso e poi chi per sbaglio li sente e magari li può gradire ed apprezzare, li può anche provare a concretizzare, quindi trada quello che vedi, non quello che avresti voluto vedere, perché altrimenti stai tradando il futuro che non esiste e i grafici se li guardi bene ti fanno tradare il presente, guardali con un altro punto di vista e poi di gruppo lavorativo stiamo tradando sempre negli stessi punti grafici, in maniera tale da far capire a tutto il gruppo da qui ai prossimi 1-2 mesi che tradando sempre le stesse zone grafiche, dopo un po' le possibilità del grafico o del prezzo, ok, non sono infinite, sono o fa così, o fa così, o fa ancora così, oppure cosa? 4 cose, finito. Allora poi da lì ci sentiremo sempre più a nostro agio e si capirà che si spingerà ancora di più eccetera, mi raccomando, anti martingala e stammi bene grazie all'attenzione, quindi 176 giorni al compimento della missione di Fabri Forex, grazie, a domani, ciao ciao, ripeto a domani, se riesco a fare il video, se trado eccetera, comunque sto tenendo traccia di tutte le operazioni, ok? E più avanti le vedremo anche sotto altri punti di vista. Per adesso ti dico, se vuoi vedere dove io ogni giorno tendenzialmente vado a lavorare, bene, guardati i sell di euro yen, a che ora, ripeto, giungi un'ora per riportarti all'orario italiano e hai capito. Puoi guardare sul grafico un minuto, vedere un attimino i dettagli di quanto mi va a favore, di quanto mi va contro e quindi intercettare le zone che stavo proprio dicendoti prima. Grazie, ciao, a presto.